Grazie mille a tutti, sono davvero contento, grazie per l'introduzione, sono molto molto contento di essere qua, ringrazio per l'invito tutti voi di Domus Aurobica per l'invito e anche la possibilità di venire qua a fare questa chiacchierata insieme a voi e affrontare un argomento che sta a cuore a alcuni dei presenti e anche telefonicamente ci siamo un po' confrontati sul mito e sulla storia della battaglia di Roncisvalle, la chanson de Roland che racconta la canzone di Orlando che racconta le gesta dei paladini di Carlo Magno e nel caso specifico di Orlando il paladino che è diventato il simbolo nell'undicesimo secolo o comunque nel lungo medioevo delle virtù cristiane, dell'eroe, del paladino cristiano che combatte gli infedeli e combatte gli infedeli e si sacrifica, è un esempio di valore, di coraggio, delle virtù cristiane che erano dovute, erano richieste a un cavaliere dell'undicesimo secolo e via dicendo che è il secolo delle grandi, delle crociate, della riconquista, della riconquista di Gerusalemme, della terra santa e dei luoghi santi, della cristianità e parlando appunto nell'organizzazione di questa conferenza ci siamo confrontati su come poi in verità la storia della battaglia di Roncisvalle, cioè la realtà della battaglia è tutta un'altra cosa. Siamo nel 778, ottavo secolo, contesto, avvenimenti, anche le fonti raccontano una storia completamente diversa che poco c'entra con quella dei valorosi paladini e di quell'afflato da proto crociata, da crociata che poi in verità nell'epica cavalleresca diventa il simbolo questa battaglia, questa sconfitta dei cristiani e quindi quest'oggi, questa sera, ho il piacere di raccontarvi, posso dire, due storie. La prima storia è quella di Orlando Paladino, cavaliere, simbolo delle crociate, esempio per tutti i cavalieri da seguire e quindi una sorta di Achille del Medioevo, cioè dell'esempio dell'eroe, dell'epica fondativa di una cultura, di una società e anche di un mondo. E poi c'è un'altra storia che è la storia quella vera, è la storia della battaglia di Roncisvalle in cui si affrontarono i franchi cristiani contro i baschi cristiani. La storia quella vera che non è così conosciuta come la storia della Chanson de Geste, della Chanson de Roland, ovvero la storia quella reale che è stata anche un po' nascosta in verità. Le stesse fonti franche hanno tentato di insabbiare questo racconto perché raccontava di una sconfitta, di una grande sconfitta subita da re, il re imperatore Carlo Magno che è uno di quei pochi personaggi che è conosciuto anche per il suo aggettivo di Magno, cioè raramente diciamo re Carlo imperatore o Carlo imperatore. Carlo è diventato al pari di Alessandro Magno, Carlo Magno, tant'è che ad esempio in certe lingue come l'inglese o il francese è Charlemagne, in tedesco è Car del Grosse, in italiano è Carlo Magno. Addirittura il nome in certi casi si è unito per definire questo grande imperatore del Medioevo che ha segnato la storia europea indelebilmente, tant'è che già ai tempi, già nel periodo medievale è stato chiamato successivamente alla sua morte come il padre dell'Europa, il faro dell'Europa addirittura in certe fonti. Come dicevo parleremo di Orlando, qui ho messo tre figure ovviamente non sono miniature medievali ma sono tre immagini moderne, più o meno moderne del Novecento, del famoso Orlando, del prode Orlando, del guerriero, del cavaliere, il conte Orlando che in un'imboscata di saraceni, dei vili saraceni che attaccano alle spalle la retroguardia dell'esercito franco cristiano di Carlo Magno, combatte estremamente fino all'ultimo, addirittura combatte quando ogni speranza è andata persa, quando vede cadere tutti i suoi compagni, il vescovo, gli altri conti, i suoi fedeli compagni di battaglia e pur di non perdere la faccia, ma forse è un termine troppo moderno, pur di non disturbare il suo re imperatore aspetta fino all'ultimo prima di suonare il suo corno, l'olifante. Infatti nel testo Orlando, spossato dalle ferite, dalla lunga battaglia, come si vede in una di queste immagini, è costretto a suonare l'olifante quando già capisce che sta morendo e morirà per lo sforzo di suonare nel corno, corno che poi distruggerà sulla testa di un saraceno musulmano che voleva rubarlo del suo elmo, delle sue armi della sua corazza e quindi morirà addosso, addossato a un albero, non per meriti dei rivali, dei saraceni, dei vili saraceni, ma per lo sforzo che lui ha affrontato in battaglia e in questo retta in cui analizzeremo la storia e il mito di Roncisvalle, dietro a Roncisvalle, inserirò anche qualche testo cuevo, qualche fonte storica per farvi capire come la recezione quella epica del racconto della chanson des gestes rispetto a quella delle fonti coeve, cioè di gente che scriveva quando Carlo Magno era vivo o quando era appena morto, è completamente diversa, qui racconta la chanson de Roland, il conte Orlando con pena e con affanno, con gran dolore or suona l'olifante, fuori della bocca gli sgorga il sangue chiaro e al suo cervello la tempia ecco si schianta, l'eco del corno che suona va lontano, la sente Carlo che sta passando i valichi e l'odenamo e l'ascoltano i franchi. Qua Orlando sta morendo, spossato dalla battaglia, suona il corno e richiama il suo re imperatore che tornerà precipitosamente il più velocemente possibile a salvare quello che rimane delle salmerie della retroguardia dell'esercito cristiano, però inutilmente perché saranno tutti morti e Carlo Magno troverà il suo diletto paladino ormai morto addossato ad un albero in una scena molto simile a quella che come vedremo in chiosa a questo intervento è la scena della morte di Boromir figlio di Denethor, ovvero stiamo parlando del Signore degli Anelli e della magistrale opera di John Ronald Reuel Tolkien, che non a caso professore di Oxford di lingua anglosassone, esperto medievista e anche grande conoscitore dell'epica medievale. Però prima di entrare nel discorso, ovvero prima di analizzare le differenze che si interpongono fra quello che è il racconto storico e quello che è l'epica, vorrei farvi una introduzione storica, un'introduzione storica abbastanza generale, però per darvi l'idea anche del contesto oggi diremmo geopolitico internazionale del tempo. Questa mappa, benché più o meno precisa in certi suoi disegni, in certi colori, più che colori, in certi confini, e qui ci tengo a fare anche una piccola chiosa, le frontiere, i confini del Medioevo, ma fino a Vestfalia, cioè fino al 1700 e fino ai nostri giorni, erano una cosa abbastanza diversa da oggi. Noi oggi siamo abituati a concepire i confini come delle linee rette, come delle linee ben precise che sono raffigurate su delle mappe o Google Maps, ma si ritrovano anche nella fisicità, si manifestano nella fisicità attraverso le dogane, vengono segnati così. Nel Medioevo, ma fino comunque all'età moderna, se non addirittura fino all'8900, i confini erano spesso una questione anche differente, si parla di zone di frontiera, c'erano dei confini ben definiti da delle linee, magari da delle erme, da delle pietre di confine appunto, ed erano una cosa presa molto seriamente, però quando guardiamo delle mappe antiche, medievali, comunque dei tempi passati, non rigorosamente scientifiche come quelle moderne, sono sempre un po' presa poco segnati, a meno che non abbiamo in mano delle fonti che parlano di trattati, come succede fra i franci e i danesi, che scelgono il confine sul fiume Eider, a nord, fra Danimarca e Sassonia, odierna Germania, in cui c'è proprio, lo vediamo dalle fonti, o comunque dei testi specifici in cui parlano di questi confini, definendoli il fiume, il monte, eccetera, erano spesso una questione di agricoltori e pastori, di zone di interesse e di controllo, ma anche di possedimenti di grandi signori, i latifondisti aristocratici, quindi sono realistici, perché poi comunque non possiamo sapere nella verità se il confine che viene segnato era quello preciso, però danno bene l'idea. Descrivendo la cartina, vediamo che in alto, a mia sinistra, vedete il Regno Franco in rosa, ed è il Regno Franco, come stiamo parlando dell'VIII secolo, è il Regno Franco dei re Merovingi, è una grande potenza continentale che, benché magari sottaciuto, è trattata con grande rispetto anche dagli imperatori di Costantinopoli, che li usano spesso i franchi nel corso della storia per combattere contro i Longobardi, e comunque è il Regno più potente dell'Occidente latino e cristiano. È il Regno più potente perché è riuscito anche a fondersi in una maniera più solida con la già esistente aristocrazia e popolazione romana, gallo-romana, e nel corso dei secoli si è espanso sempre di più, fino ad occupare quelli che sono oggi parte della Germania, l'ex provincia della Gallia, parte dei Pirenei, la Savoia moderna, la Frisia, che non sarebbe nient'altro che Olanda, eccetera. Il Regno Franco nell'VIII secolo è già in mano alla dinastia dei Carolingi o Pipinidi, che è la dinastia di Carlo Magno, che inizialmente era chiamata dei Pipini di Arnold Fingi, poi davanti a una figura come quella di Carlo Magno la sua famiglia assume anche questo nome. In giallo vediamo il Regno Longobardo, che nel periodo in cui affronteremo noi è già conquistato da Carlo Magno e è praticamente un Regno teso all'unificazione dell'Italia, all'unificazione dell'Italia che però non avverrà mai perché l'ultimo re Longobardo, Desiderio, tenterà di conquistare il papato, però verrà fermato da quell'alleanza fra Papi e la dinastia Pipinide e Pipino, il padre di Carlo Magno, un'alleanza che segnerà la fine del Regno Longobardo, perché poi c'è questo scambio per cui Pipino, che aveva appena compiuto un colpo di stato contro la dinastia dei Mirovingi, che governavano il Regno dei Franchi, viene legittimato dal Papa nel suo nuovo ruolo di re, mentre il Papa dalla sua ci guadagna l'esercito Franco che arriva e per due volte dà la bastonata ai Longobardi, che vengono sconfitti clamorosamente, e successivamente anche il terzo intervento di Carlo Magno, che però porrerà fine alla questione dell'esistenza del Regno Longobardo, assumendo su di sé anche la corona dei Longobardi. In verde, verde azzurrino, vediamo l'impero bizantino, ci tengo a ribadire che di bizantino non ha niente, perché il termine bizantino è un nome, è un termine che è nato nel 7-800, se non erro, per indicare quello che è nient'altro che è l'impero romano d'Oriente. Al tempo già parlava, erano quasi tutti, parlavano greco, e infatti si definivano Romei. E l'imperatore di Costantinopoli, che era la città più grande, più ricca, più potente dell'Europa e anche del Mediterraneo del tempo, governavano l'imperatore di Costantinopoli che avevano un potere e una forza non indifferente. Azzurro, in quello che è, come si può vedere dalla mappa, un impero intercontinentale, cioè si dipana su tre continenti, c'è l'impero islamico, il califato Omajade, l'impero islamico, un impero che è nato in seguito alla conquista, all'uscita di Maomet e dei suoi seguaci, anche dei seguaci di Maometto e successori dall'Arabia storica, e che conquista, sconfigge sia l'impero romano d'oriente bizantino, sia l'impero persiano Sasanide e creano questo impero estesissimo che arriva addirittura fino alla Spagna, se non alla Settimania, la Costa Azzurra, fino Egitto-Palestina e fino Persia per andare verso il Centrasia. Addirittura i musulmani combatterono contro i cinesi, per farvi capire la vasta portata di questo grande impero. Un impero che, il califato Omajade, in questo periodo supirà un grande cambiamento perché gli Omajadi vengono deposti, sale la nuova dinastia degli Abbasidi e, come vedremo, un superstite della dinastia degli Omajadi, che hanno perso la guerra civile, e infatti dopo si chiamerà califato Abbaside, si rifugirà in Spagna e diventerà in un certo modo una delle cause che porteranno all'intervento di Carlo Magno. Due parole velocissime su Carlo Magno. Carlo Magno, qui è uno dei tanti elementi che differenziano la storia dall'epica. Carlo Magno diventa re giovanissimo. Se accettiamo l'ipotesi per cui nacque nel 748, quando diventò re nel 768 era giovanissimo. Ma soprattutto dobbiamo metterci in testa che Carlo Magno conquistò l'Italia che aveva sui 25 anni e, come vedremo, invase la Spagna nel 778 quando aveva circa 30 anni, cioè che per l'età media del tempo era più che legittimo, però ai nostri occhi, che siamo abituati a vederlo come quel imperatore dalla barba lunga e bianca che conquista l'Europa, in verità era molto giovane. E come vedremo anche questa barba poi non è una cosa molto storica, però questo lo tengo per dopo. Carlo Magno è re imperatore, nell'Ottocento, notte di Natale dell'Ottocento, divenne imperatore, nell'814 morì, la famosa incoronazione della notte di Natale dell'Ottocento. Carlo Magno è re imperatore del più grande regno dell'Europa occidentale cristiana, tant'è che anche i suoi intellettuali della corte tenderanno a identificare il suo regno, parliamo di regno perché impero diventerà successivamente a quelli che sono il nostro campo di ricerca di oggi. Tenderanno a far identificare il suo regno con la cristianità occidentale, perché si dipana dalla Gallia, parte della Germania, l'Italia che conquista e come vedete in questa mappa l'azzurro più chiaro sono tutte quelle conquiste di Carlo Magno e non era un mistero neanche per gli intellettuali della sua corte dell'epoca che lui raddoppiò le dimensioni del suo regno, conquistò veramente alcuni fra i regni più ricchi dell'Europa del tempo come quello Longobardo ma anche la Baviera che era il ducato di suo cugino. Carlo Magno sconfisse gli avari, una popolazione seminomade dell'attuale Ungheria, Austria, Slovenia che aveva seminato il caos, il panico, il terrore per secoli nella regione alto danubiana. Carlo Magno conquistò la Sassonia in una guerra trentennale che lo vide combattere e convertire i Sassoni che erano ancora fieramente pagani, però come ho già detto combattì anche contro i cristianissimi Longobardi. E nell'intervento di oggi analizzeremo quella che fu la, come si può dire, la batosta, però batosta non è un termine corretto, ma la sconfitta, la debacle della sua campagna spagnola che si rivelò effettivamente un fallimento su più o meno tutta la linea. Per parlare dell'intervento di Carlo Magno in Spagna è giusto fare un altro piccolo passo indietro per spiegare i motivi per cui Carlo Magno, che era tutto concentrato dopo la conquista del regno Longobardo, nella sottomissione e conversione dei Sassoni, cioè nell'odierna Germania, le regioni del Nord Reno-Westfalia, Essia e via dicendo, fino all'Elba, cioè dal Reno all'Elba, che era quello il suo grande nemico, i Sassoni, perché di punto in bianco dal 777 si muove in Spagna per poi non tornarci mai più. E questo, questo piccolo antefatto, appunto, voglio descrivere la situazione della penisola spagnola, della penisola iberica, perché, come ho già accennato prima, il califato Omajade va nel 750, 749-750, va incontro a una guerra civile, c'è un cambio dinastico, e vanno al potere gli Abbassidi, che si rivoltano contro gli Omajadi, ammazzando gran parte degli appartenenti a questa dinastia, che quindi sono sconfitti, i pochi rimasti, forse solo uno, si rifugiano in Spagna. Infatti, nel 753, Abd al-Rahman, che è l'unico sopravvissuto degli Omajadi, sbarca in Spagna e reclama l'Andalusia, cioè Al-Andalus, come chiamavano gli arabi la Spagna, reclama per sé questa terra, che diventerà poi nota come il califato, non il califato Omajade, però l'Andalus è l'emiro di Cordova, perché Cordova è la capitale. Abd al-Rahman sbarca in Spagna, sconfigge le forze lealiste filo-abbassidi, cioè quelle leali al nuovo governo che sposta anche la capitale da Damasco a Baghdad, quindi al nuovo governo di Baghdad, che ha sterminato la famiglia di Abd al-Rahman e riesce a imporsi e a conquistare il potere più o meno su tutta la Spagna, tranne i regni cristiani, i regni cristiani visigoti del nord, e riesce ad ottenere un potere più o meno nominale in quella Spagna del nord che è il teatro del conflitto che noi adesso andremo a sviscerare. Infatti nella Spagna del nord si rifugiano, comunque dovete considerare che quella della Spagna era una situazione particolare perché la maggior parte della popolazione era cristiana, soprattutto al nord. Costoro pagavano una tassa, come in tutto il resto del regno della dominazione islamica, pagavano una tassa ai musulmani per poter mantenere la propria religione, poter praticare e in generale siamo in un contesto più o meno multiculturale, multireligioso. Ci sono arabi, berberi, ci sono visigoti, ancora discendenti di quelli che erano gli abitanti romani della Spagna e soprattutto al nord, nella regione dell'Ebro, cioè che è quella che poi interesserà la campagna di Carlo Magno, ci sono degli emiri, cioè degli emiri, degli iguali, dei governatori che non sono molto contenti di questo cambio di potere, cioè con la presa del potere di Abd al-Rahman, cioè di questo esule Omayyade. E infatti sono costoro che chiederanno l'intervento di Carlo Magno. E la zona del nord è quella zona dove magari non sono contenti del nuovo cambio di regime, dell'arrivo di Abd al-Rahman, cioè di questo esule Omayyade, ma sono anche contenti di essere un po' più indipendenti, nel senso che mirano anche una propria autonomia. Più grande l'autonomia, meglio è. Sono quelle zone di frontiera dove le cose cambiano col cambio del governatore, c'è una situazione molto fluida e in continuo cambiamento. E infatti le fonti che abbiamo ci raccontano che nel 777, durante un'assemblea che Carlo Magno tenne a Paderborn, cioè nel centro della Sassonia, Paderborn è, nella Sassonia come vedete qua, in alto, è anche segnata addirittura a Paderborn. Paderborn è, dire capitale sarebbe errato, però è il villaggio, la città che Carlo Magno sceglie come suo luogo di residenza ma anche di potere all'interno della regione della Sassonia che stava conquistando. Fa costruire un'aula regia, fa costruire una chiesa, insomma è il luogo di potere che sceglie anche come palcoscenico, scenografico per far vedere ai Sassoni che adesso è lui che comanda, che adesso è lui che governa, è lui che sta conquistando la Sassonia, è un re cristiano, forte, addirittura fa costruire un'aula regia e una chiesa in pietra in un mondo che è quello sassone in cui a dominare era legno per le costruzioni. Quindi arrivano degli arabi, sono grandi governatori, ce lo dicono le fonti, uno di questi è Suleyman al-Arabi, poi c'ha Butaer e Yusuf che è il figlio dell'ex governatore della Spagna musulmana che è stato sconfitto da Abd al-Rahman e questi grandi notabili, grandi governatori di città arabi vanno da Carlo Magno e gli chiedono semplicemente in questa grande assemblea in cui sono venuti nobili da tutto il regno, sono venuti anche dei Sassoni convertiti, i Sassoni sottomessi, vescovi, grandi signori latifondisti franchi e non anche da tutto il regno e gli chiedono una mano, gli chiedono soprattutto, le fonti insistono su Suleyman che è il governatore di Saragozza e Gerona, quindi due grandi città della Spagna settentrionale e questo Suleyman gli dice io mi dedico a te, mi sottometto a Carlo Magno se tu vieni a darci una mano contro Abd al-Rahman, contro il nuovo governo di Cordova perché noi preferiamo il re Franco che è cristiano quando noi siamo musulmani che vive lontano piuttosto che l'emiro musulmano che vuole imporre il suo dominio qua. Carlo Magno accetta e infatti abbandona la conquista della Sassonia che era il suo, come Gombardo e progetta l'invasione della Spagna e l'invasione della Spagna avviene secondo la classica strategia adottata da Carlo Magno e dei Franchi che Carlo Magno adottò in numerose guerre che combatte, tendenzialmente tutte di invasione, cioè tutte di conquista. Carlo Magno non penso abbia neanche combattuto una guerra per conto suo difensiva, era sempre quello che andava a cercare il nemico, andava a conquistare, andava a punire i popoli che si ribellavano al suo dominio, al suo potere e questa strategia è quella che noi oggi chiamiamo della manovra tenaglia e che, non sappiamo come la chiamassero i Franchi però, erano diventati abbastanza bravi a gestirla, a dominarla e questo ci fa anche capire la forza logistica organizzativa che aveva assunto il Regno Franco, l'esercito e i comandanti di Carlo Magno che riuscivano ad organizzare delle spedizioni molto complesse perché dobbiamo immaginare tutti i carriaggi, tutto il seguito di levettovagliamenti, il cambio dei cavalli, anche perché era un esercito in parte di leva e in parte di soldati professionisti, dei vassalli, dei nobili che quindi erano quelli armati di tutto punto, come nel caso del nostro Orlando e quindi viene organizzata questa invasione che segue due direttive la prima è quella che segue la 34esima via romana, se non erro, passa per i Pirenei e punta alla città di Saragozza, cioè Cesare Augusta, sul Lebro ed è un esercito composto prevalentemente da Franchi e da Aquitani l'altra colonna dell'esercito Franco, cioè l'altra parte della Tenaglia è un esercito composto, per far capire già anche la portata europea del Regno di Carlo da Longobardi, Aquitani, Burgundi, Franchi è un grande esercito che si muove seguendo la costa per la via Domizia e punta ad arrivare anche quello a Saragozza quindi si sono dati l'appuntamento a Saragozza bisogna vedere se si trovano poi in questa città Carlo Magno passa ai Pirenei, conquista Pamplona che è una città basca e cristiana e ottiene un tributo comunque la conquista abbastanza facilmente e poi continua a marciare verso Saragozza l'esercito della costa invece affronta qualche difficoltà in più questo perché? Questo perché nel mentre che Carlo Magno ha organizzato la spedizione e i Franchi sono partiti ci sono state un po' di turbulenze nelle città e tra le fazioni politiche nelle città governate dai diversi uguali e tra i diversi governatori che avevano richiesto l'aiuto di Carlo Magno e infatti tutte quelle città che dovevano essere alleate dei Franchi dovevano aprire la porta all'esercito franco in verità la porta non la aprono Barcellona è la prima che quando vede i Franchi chiude i battenti Barcellona ma tante altre città e infatti l'esercito trova delle difficoltà Barcellona non riescono a entrare non riescono neanche a conquistarla e quindi decidono di proseguire verso l'appuntamento con Carlo che sta guidando l'altra colonna e anche qui alla fine i due eserciti si ritrovano a Saragozza e anche questa città che era la città del governatore Suleyman al-Arabi quello che le fonti insistono essere andato da Carlo Magno a chiedere la sua alleanza, la sottomissione si sottomette a Carlo non apre le porte anche questa città ha cambiato governatore è successo un stravolgimento politico non apre le porte e i Franchi si ritrovano senza tutto quel supporto logistico di vettovagliamento militare, politico perché nessuna delle città gli ha aperto le porte a meno che di quelle che non hanno conquistato e le grandi città romane della Spagna del Nord non rimangono chiuse rimangono a loro impossibili da conquistare e da entrare infatti va anche sottolineato che le strade che vedete in questa mappa sono tutte strade romane che erano ancora funzionanti e venivano utilizzate e quindi anche le grandi città della Spagna del Nord erano città fortificate da mura romane del Tardo Impero e di difficile conquista poi in verità noi sappiamo che i Franchi erano e questo sono diversi gli studiosi che sostengono questa tesi e che l'hanno anche dimostrata a mio avviso come Bacra erano dei maestri negli assedi cioè i Franchi c'era una cosa che facevano molto bene a parte la manovra a Tenaglia e l'organizzazione logistica delle loro armate che erano sempre superiori di numero rispetto al nemico e infatti i storici inglesi anglosassoni tendenzialmente parlano utilizzando un termine moderno che i Franchi usano la dottrina dell'overwhelming force cioè della superiorità numerica si presentano sempre 10 a 1 rispetto al nemico meglio armati organizzati e via dicendo e quindi i Franchi erano dei maestri negli assedi conquistano Pavia conquistano le città dell'Aquitania Verona insomma sono riconosciuti come esperti addirittura sanno costruire anche macchine belliche di una certa complessità per conquistare città fortificate e infatti anche la guerra in Sassonia contro i Sassoni pagani è una guerra di numerosi assedi certo le fortezze con le palizzate di legno le torri di legno dei Sassoni non possono rivaleggiare quelle città con le mura romane però sono sempre gli assedi quando si parla di medioevo gli assedi sono sempre delle operazioni molto difficili e rischiose e sconvolge un po' comunque ha attirato molto l'attenzione degli storici il fatto che i franchi nella Spagna del nord hanno sempre fatto fatica a conquistare le città fortificate e infatti Barcellona cadrà solo nell'inizio del nono secolo ad opera del figlio di Carlo Magno Ludovico El Pio dopo un lunghissimo assedio e la conquista è una conquista difficile quindi Carlo Magno si incontra con il resto dell'esercito comandato dai suoi generali comandanti altri duchi o prefetti e governatori delle marche di frontiera cioè delle frontiere più o meno fortificate e Saragozza non apre le porte tentano di conquistarla non ce la fanno e allora resosi conto della situazione Carlo Magno ordina la ritirata viene ordinata la ritirata questa è un'altra mappa che ho voluto portare ordina la ritirata e tutto l'esercito si incammina per la strada che aveva preso Carlo Magno quindi per passare di nuovo per Pamplona passare di nuovo per lo stretto la valle di Roncisvalle e quindi tornare nel regno in patria perché la situazione non è favorevole e la campagna è tendenzialmente fallita ed è su questa via del ritorno che forse per per stizza forse per per stizza forse un po' anche questo è un termine moderno e non possiamo sapere cosa provasse Carlo Magno il suo entourage però sicuramente è una campagna fallita magari i soldati chiedono bottino hanno bisogno o anche i feudatari si sono messi in marcia da casa per Carlo per questa spedizione hanno bisogno di un compenso quindi nel nuovo passaggio da Roncisvalle i franchi la conquistano con le armi e la città si era già sottomessa ne radono al suono le mura se non buona parte viene saccheggiata da lì l'esercito prende la via di Roncisvalle e qui è molto interessante perché le fonti come potete immaginare battaglia di Roncisvalle c'è l'imboscata dei baschi l'imboscata dei baschi che poche fonti ci raccontano e sono tutte fonti successive alla morte di Carlo e infatti nell'annales regni francorum cioè nell'annale dei regni dei franchi quel testo che è voluto da Carlo Magno è un testo che Carlo Magno ha voluto fortemente e che racconta le imprese dei franchi e di Carlo Magno in maniera politicizzata diremo oggi cioè in maniera soggettiva è il racconto che i franchi stessi fanno della loro della loro della loro storia e noi sappiamo già che c'è stata una grande sconfitta poi adesso l'analizzeremo da parte della retroguardia dell'esercito franco eppure le fonti questo annales regni francorum che vuol dire annale del regno dei franchi dice quindi Re Carlo invase la Spagna attraverso due direzioni una da Pamplona attraverso la quale il grande re raggiunse Saragozza qui lo raggiunge l'altro esercito e si congiunsero a lui in quella città entrambe le schiere qui dopo aver ottenuto stagi da parte di Ibn al-Arabi che in verità era già morto e da molti altri saraceni dopo aver distrutto Pamplona soggiogato i baschi ispanici e i navarri che sono popolazioni cristiane rientrò in Francia punto cioè nel testo della corte carolingia che racconta la fonte che racconta la spedizione spagnola non è successo niente 778 non ci sballe non è successo niente non è successo niente niente di importante da sottolineare pacifici ed è una fonte più o meno coeva e in verità c'è stata la battaglia e lo sappiamo da fonti successive addirittura dalla biografia di Eginardo che era il grande biografo e amico di Carlo Magno ma anche da un annales che è praticamente il un annale successivo che viene chiamato annales qui di Cunturo e Inardi cioè quello che completa l'annale cioè il racconto gli annali che vi ho letto prima e qui vi leggo prima il testo della fonte e poi analizziamo velocemente la battaglia sulle alture dei Pirenei i baschi prepararono l'imboscata qui è chiarissimo cioè dopo la ritirata di Spagna durante la ritirata dalla Spagna i Pirenei sui Pirenei i baschi prepararono l'imboscata attaccarono la retroguardia e gettarono in confusione l'intero esercito pure l'altra fonte Eginardo che sì eh mentre combattivano ok mentre l'esercito avanzava in colonna obbligato a ciò da un passaggio angusto i baschi inaguato sulla cima della montagna calando dall'alto precipitarono nella valle sottostante la coda delle salmerie e guerrieri che coprivano il retroguardia che li precedeva attaccata a battaglia li uccidono tutti fino all'ultimo saccheggiano i bagagli e con il favore dell'oscurità incipiente spariscono disperdendosi rapidissimi in ogni direzione rapidissimi in ogni direzione praticamente cosa avviene a Roncisvalle l'esercito franco è allungato in colonna e sta passando per questa questa valle tra i pirenei è una valle boscosa lo dicono le fonti in cui le salmerie comunque la colonna dei soldati franchi è molto lunga dovete anche pensare che il nerbo dell'esercito franco non è solo il numero superiore ma sono anche i vassalli i cavalieri sono i fanti ma soprattutto i cavalieri pesantemente armati armature di tutto punto e molto costose indossate da guerrieri veterani ed esperti che sono abituati a combattere in formazione perché in altri testi conosciamo che era molto importante la disciplina per l'esercito dei franchi i baschi probabilmente dopo la distruzione di Pamplona vogliono vendicarsi dei franchi organizzano un'imboscata e la caratteristica dei baschi e viene detta sia dai ginardo che da altre fonti che parlano della battaglia è quella che sono armati alla leggera giavellotti spade elmi nessuna armatura fionde sassi sono armati alla leggera e aspettano che la maggior parte dell'esercito franco superi la valle e attaccano la retroguardia che è comunemente la parte più debole di ogni esercito attaccano la retroguardia per depredare le salmerie saccheggiare il più possibile perché probabilmente erano anche la retroguardia era anche dove si trovavano tutti i carri pieni di bottino il bottino che hanno saccheggiato i franchi durante questa campagna e avviene una strage perché i franchi pesantemente armati non riescono a mettersi in formazione a utilizzare i cavalli è una zona scoscesa boschiva e non riescono a rispondere e c'è una strage questo è un disegno moderno della battaglia molto interessante realistico qua vedete anche Orlando con il suo olifante infatti anche le fonti sottolineano come ci sia una grande strage muoiono tantissimi soldati Carlo Magno non riesce a intervenire e addirittura dicono che morirono in questa battaglia numerosi conti e grandi signori numerosi conti e grandi signori fra cui scrive Ginardo nella biografia nella battaglia vengono uccisi insieme a molti altri il siniscalco e Giardo il conte palatino Anselmo e il prefetto del confine di Bretagna Rolando ed è Rolando della Chanson de Geste questo rovescio non poteva avere immediata vendetta perché i nemici compiuto il misfatto si dispersero in modo tale che non si sapeva fra chi andarli a cercare praticamente toccata e fuga distrutta la retroguardia saccheggiata le salmerie i baschi si disperdono i franchi Carlo Magno consapevole del fatto che non riuscirà mai a trovare i colpevoli e della battosta della sconfitta che ha preso in Spagna torna in Francia e non tornerà mai più nella Spagna del nord sarà suo figlio infatti a combattere in questi territori quella riga di Rolando cioè del nostro Orlando è l'unica specificazione che abbiamo sulla presenza di un tale Rolando conte di Bretagna cioè quindi fedele di Carlo Magno a combattere nella battaglia di Noncisvalle e lì morì non dice nient'altro del corno di niente questo è il fatto puro della fonte storica questa mappa ve la faccio semplicemente vedere perché fa vedere come se guardate la Spanish March cioè la marca spagnola la parte tratteggiata è dove i franchi cioè riuscirono a conquistare per un certo periodo o ad avere la loro influenza e viceversa anche quella più azzura chiara che fu il massimo dell'espansione che raggiungero sotto la guida del figlio di Carlo Magno Ludovico perché poi come dicevo Carlo Magno in Spagna non ci torna più cioè quel re in vitto è stato lì sconfitto e si è abbastanza anche tra gli storici concordi che è stato un grande fallimento politico e anche militare ora adesso andiamo a vedere il mito vi ho stufato con la parte storica ora andiamo a vedere il mito e il mito ho voluto rappresentarlo con queste due belle immagini a sinistra Carlo Magno l'imperatore come lo conosciamo noi cioè con la barba anziano è l'imperatore saggio giusto assiso sul suo trono con una spada dei cani da caccia che sono anche quelli simbolo la caccia è simbolo della regalità della cristianità occidentale vestito in modo sfarzoso lo sguardo serio i baffi ricorda anche un po' Federico Barbarossa e a destra abbiamo Orlando il fiero paladino che come abbiamo visto fin dall'inizio soffia il suo corno l'olifante a chiamare l'avanguardia Carlo Magno l'avanguardia cristiana e Franca a sostenere la battaglia adesso andiamo un po' a vedere certi elementi del mito noi abbiamo già visto che il mito nasce da una riga da un ricordo anche perché poi il mito cambia completamente tutto cioè l'epica cambia completamente tutto qua sono cristiani baschi e franchi baschi che si sono menati tra di loro cioè la battaglia è quella poi il mito trasfigura l'elemento storico e lo trasforma in un simbolo nel simbolo della crociata nel simbolo della conquista nel simbolo del sacrificio per un valore più alto ma soprattutto serve anche ed è sottolineato più volte nel testo della chanson de Roland perché sottolinea come colui che muore uccidendo il nemico infedele in terra santa nella crociata è assolto dei suoi peccati perché alla fine del testo Rolando viene portato in paradiso adesso andiamo a fare un po' quell'operazione di debunking che non amo tantissimo però è abbastanza anche interessante e divertente la prima cosa che ci tengo tantissimo Carlo Magno non aveva la barba cioè nelle rappresentazioni storiche che possono essere attribuite a Carlo Magno come ad esempio il mosaico che questa qua è una sua rirrappresentazione però è un mosaico che è presente a Roma che rappresenta San Pietro che dà al Papa talare una veste e a Carlo Magno lo stendardo e come potete benissimo vedere l'ho evidenziato con il rosso Carlo Magno ha due bei baffoni quella in mezzo a una moneta carolingia con l'effigie di Carlo come imperatore romano e si vede anche qui un accenno di baffi e a sinistra invece c'è una statuetta che è presente oggi al Louvre che alcuni sostengono rappresenti Carlo il Calvo uno dei successori di Carlo Magno altri Carlo Magno però rappresenta bene quello che poteva essere che è anche descritto da Ginardo l'aspetto di Carlo Magno cioè un uomo robusto alto imponente infatti anche quando hanno resumato le sue ossa della sua tomba per misurarle era un uomo imponente molto alto fisico da guerriero da guerriero germanico e portava dei bei baffoni come potete vedere qui capelli tagliati più o meno alle spalle e ha dei grandi imponenti baffi quindi già questo è il Carlo Magno della storia perché come vi dicevo prima il Carlo Magno dell'epica della chanson de Roland è un vecchio è anziano e di contro il Carlo Magno storico era un ragazzo ragazzotto diremmo oggi un uomo di 30 anni cioè quindi sfido che avesse quella barba e quel fare l'assaggio più avanti lo avrà però questo è molto più probabile che fosse il Carlo Magno quello vero e per quanto riguarda la storia di Orlando che suona l'olifante questa è tutta una mitizzazione della chanson de geste che elabora appunto questo mito un mito molto toccante anche perché è creato per essere esempio è creato per essere esempio per i giovani cavalieri esempio di piurezza di non commettere violenze ingiustificate è l'esempio dell'uomo che combatte contro ogni contro ogni avversità del cavaliere che si sacrifica che ama senza richiedere nulla in cambio il suo imperatore la causa un devoto cristiano e tant'è che come dicevo finirà in paradiso ma ad esempio Carlo Rolando piuttosto che far avere la sua spada ai mori ai saraceni prova a distruggerla Durlindana la sua spada su una roccia poi alla fine anche lui capirà che è sbagliato la lancia in cielo e viene presa da delle mani che vengono dal cielo però è tutta una trasfigurazione diversa estremamente interessante che serve come epica fondativa della cavalleria dello spirito crociato e infatti la storia è un po' complessa non sto qua a ripeterla quella dell'epica perché ci sono anche qua tradimenti litigi è un bellissimo poema la chanson de Roland e racconta di come la retroguardia cristiana sia attaccata dai musulmani che dopo un accordo perché nella chanson de ges Carlo Magno ha vinto la guerra in Spagna cioè lui stava conquistando la Spagna trovano un accordo per cui Carlo Magno se ne va la Spagna è sottomessa però non conquista Saragozza una cosa del genere non distrugge il potere dell'emiro allora appena se ne va i vili saraceni che sono infedeli eccetera li attaccano per sconfiggerli uccidere Carlo Magno eccetera ma è la grande resistenza di Rolando e della retroguardia dei suoi conti dei nobili cioè il vescovo Turpino ci sono dei personaggi molto interessanti a alla fine trasformare questa questa rovinosa sconfitta in una vittoria non bellica non strategica ma ideale perché Carlo Magno poi arriva in tempo scaccia gli arabi però va ad accudire il nostro Rolando Morente che dopo aver suonato il corno per di fiato essere morto si adagia con la spiena su un pino e lì muore spira per essere portato direttamente in paradiso queste sono sempre rappresentazioni più o meno moderne vedete anche in questo caso come si sottolinea la viltà ma anche lo spirito crociato dei franchi infatti spesso nelle rappresentazioni moderne ma anche dei medievali croci cioè si pongono la differenza fra i cristiani franchi e i musulmani con la barba nemici quando in verità come vi dicevo sono stati altri cristiani ad attagare la retroguarda dei franchi e questo è un'epica un'epica che trasfigura questo accadimento storico ed è anche molto toccante la morte di Orlando perché come dicevo questa bellissima miniatura medievale tenta di rompere la spada poi i suoi guanti vengono presi dall'arcangelo e alla fine vedete che il corno in questo caso è spezzato perché lo sbatte in testa come si vede qua a un musulmano che voleva rubarglielo e svestirlo dei suoi averi come facevano sempre sui campi di battaglia e quindi anche morendo compie il gesto di mantenere fede ai suoi doveri alla sua lealtà eccetera e la morte di Orlando diventa l'esempio perfetto come ho ripetuto più volte del del cavaliere cristiano del cavaliere crociato undicesimo secolo ripeto anno della prima crociata inizio della reconquista via dicendo il guanto destro porge impegno a Dio San Gabriele dalla sua mano l'ha preso sopra il braccio si tiene il capochino le mani giunte è arrivato alla fine Dio gli manda al suo angelo cherubino e San Michele del mar del perico insieme a loro viene lì San Gabriele portano del conte l'anima in paradiso Orlando è portato in paradiso addirittura da presenze angeliche ed è molto anche toccante ed è toccante la scena di Carlo Magno che trova Orlando morto adagiato contro questo albero che ricorda molto come dicevo prima quella di un altro eroe un altro eroe epico cioè di quell'epica moderna novecentesca che nient'altro che è il signore degli anelli di Tolkien che stiamo parlando del primo capitolo delle due torri perché nella cinematografia è posto alla fine della compagnia dell'anello ma nel libro è il primo capitolo delle due torri se non erro la morte l'addio a Boromir la morte di Boromir e Boromir è molto simile per diversi per diversi elementi a Orlando a Roland ed è molto interessante non è un mistero che Tolkien da conoscitore dell'epica germanica anglosassone germanica forse non è il termine corretto però anglosassone dell'epica barbarica chiamiamola così ha utilizzato diversi elementi per creare la sua la sua narrazione per creare il mondo fatato di Arda e tutta la sua mitologia perché Tolkien crea una vera e propria mitologia e in questo caso riutilizza direi abbastanza palesemente alcuni riutilizza non copia è importante sottolinearlo alcuni elementi della chanson de Roland nella morte di Boromir la morte di Boromir che tutti penso abbiate visto il film c'è anche chi ha letto il libro avviene in maniera pressoché simile Boromir dopo aver peccato e questa è la grande differenza dopo aver peccato cioè aver tentato di prendere l'anello da Frodo e questo è anche questo dovuto a una sua un suo eccesso di senso del dovere perché Boromir vuole l'anello per salvare Gondor cioè Boromir e anche qui ricorda molto i paladini e l'epica cavalleresca perché lui è un guerriero ed è scritto quasi paro paro come un guerriero è un cavaliere medievale perché è il più robusto è il più alto i capelli tagliati fino alle spalle è un uomo nobile cerca di prendere l'anello a Frodo l'anello del potere per usarlo come arma contro il signore oscuro per difendere la sua gente per salvare Minas Tirith e per sconfiggere le orde degli orchi dell'oscuro signore quindi Boromir diciamo che giustifica uno strumento malvagio per un fine nobile ovviamente l'anello va distrutto cioè il male va distrutto e saranno altri eroi come Frodo e Sam a riuscire in questa impresa e Boromir cade ma si rialza subito perché si sacrifica per difendere Merry e Pipino gli altri due Hobbit e muore combattendo in una bellissima scena del film contro le orde di Urukai mandate da Saruman che alla fine rapiscono i due piccoli Hobbit però lui ne porta con sé nel libro dice almeno 20 e suona il suo corno per chiamare a rinforzo nella difesa dei mezzuomini anche Aragorn e Gimli cioè i suoi e Legolas i suoi compagni e infatti la scena è raccontata però con gli occhi di Aragorn Aragorn arriva trova Boromir seduto con la schiena appoggiata a un grande albero pareva dormire però era trafitto da molte frecce allora ed è la stessa scena di Orlando poi c'è un veloce scambio di parole in cui Boromir chiede scusa per aver peccato per avere tentato di prendere l'anello Aragorn lo perdona e dice che la sua morte con la sua morte ha salvato Minas Tirith con la sua volta ha salvato la sua gente ma soprattutto con la sua morte si è riscattato e poi Boromir spira con il corno che anche nel libro lo dicono è spezzato al suo fianco questa è la scena una parte più o meno una reinterpretazione del libro e poi cioè del film e dall'altra di un autore fantasy un pittore fantasy e ricorda molto quella che abbiamo visto essere la storia e comunque la morte di Orlando che già aspirato è stato già morto Carlo Magno va a dargli l'ultimo saluto e anche in questo caso stiamo parlando di Boromir e il suo re perché Aragorn è legittimamente re di Gondor e quindi il re di Boromir e qui vi ho messo sempre in relazione i due episodi molto interessante secondo me ma soprattutto vorrei chiudere il mio intervento con una piccola riflessione che è quella sul fatto Rolando Rotland per le fonti è mai esistito la battaglia si è svolta in questo modo Rolando probabilmente è esistito lo dicono le fonti la battaglia si è svolta in questo modo come quello descritto nelle fonti storiche sto parlando di baschi contro cristiani sì probabilmente è stato un'imboscata ha importanza in fin dei conti se c'è questa completa adesione o se la chanson de geste si è inventato tutto ha importanza se un racconto epico che vuole passare un messaggio un ideale un valore degli ideali un esempio uno stile di vita ha importanza se trasfigura la realtà per insegnare qualcosa di positivo ha importanza se Boromir è mai esistito ha importanza se Aragorn è mai esistito non ha importanza ciò che conta è l'esempio sono gli ideali sono i valori ma anche sono l'esempio che ci hanno dato che può essere un esempio per i giovani del medioevo i giovani nobili che mentre crescevano crescevano con la storia di Orlando la storia di Roland che combatteva addirittura abbiamo delle testimonianze per cui i cavalieri normanni alcuni cavalieri normanni caricavano il nemico cantando la chanson de geste cioè cantando la chanson de Roland a memoria cioè cantavano la canzone di Orlando che si scagliava contro i nemici quindi non è importante che sia o più o meno simile all'evento storico che sia pedissequamente il racconto dell'evento storico perché ciò che conta nella chanson de Roland ma come anche nel Signore dei Anelli l'epica in generale sono i valori sono gli ideali sono le idee ed anche i racconti e gli esempi che vogliono fornire per crescere per formare la generazione successiva io vi ringrazio per l'attenzione e per la la pazienza grazie grazie grazie